La sua santità ci ha detto che vedendo le foto del presepe ci ha detto che il presepe napoletano è riuscito ad unire queste due realtà Napoli con il suo presepe napoletano e Assisi dove è nato il presepe e quindi unendolo con un unico linguaggio la rappresentazione sacra. In concomitanza con il primo anno di Papa Francesco il presepe realizzato dalla bottega Cantone Costabile di Napoli ed ambientato in una grotta che ricorda quelle di Posillipo nel 2013 è stato esposto in piazza San Pietro ed ora sarà Assisi ad accogliere una nuova creazione che rappresenterà l'eccellenza napoletana nel mondo. Nella basilica superiore di San Francesco d'Assisi tra gli affreschi di Giotto e Cimabue sarà collocata la monumentale natività costruita con la stessa tecnica usata per i pastori nel settecento napoletano terracotta policroma per la testa degli arti occhi in cristallo corpo in ferro e paglia ed abiti in tessuto. Ricordiamo e sottolineiamo che per la tradizione religiosa cristiana San Francesco è l'inventore del presepe ecco che a fare tutto ciò sia un artigiano un artista della nostra città vuol dire che la capacità culturale il rigore culturale ma anche la fantasia creativa in questa nostra grande tradizione ha raggiunto veramente il vertice. Questo messaggio di pace in questo momento attraverso il mondo attraverso l'artigianato artistico e la tradizione presepiale napoletana di questo non possiamo che essere particolarmente fieri e orgogliosi è una grande vocazione di Napoli che si fa ancora una volta messaggio universale.